la signora è vero buona vera è bella è bello quando c'è setà e tutta come si chiama la colazione da Tiffany fa la signora guarda signora buona colazione quant'anni ha vero? 15 minuti grazie molto gentile ma pare quanto sono 75? io 77 87 anni e fa ancora la colazione i tecchi e biscottati i tecchi dov'è sentito la tua coppa la coppa la coppa stanno cantando ma gli fanno una coppa ok colazione da Tiffany grazie come si dice? look in me? eh look 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 inside guarda la signora vede buono look good 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 no 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 Colazione da Tiffany, non si muore mai a Palermo, in Sicilia mangia, in Sicilia non ti chiedono come ti chiami, in Sicilia ti chiedono manciasse, colazione da Tiffany.